Negli ultimi mesi abbiamo spesso parlato di problemi di natura idrica che hanno interessato un po' tutta la Calabria. Questa volta è toccato ai cittadini di Dipignano, centro in provincia di Cosenza, ed esattamente ai residenti della frazione Cappuccini. Non un problema dalle ultime ore se si considera che già da fine giugno era stata registrata una sensibile riduzione del volume di acqua che arrivava alle abitazioni. In particolare nel tardo pomeriggio i rubinetti erano completamente a secco. I cittadini ovviamente si sono rivolti agli uffici competenti, ma il problema, la cui origine era stata indicata in un primo momento nella siccità e nella rottura di una pompa, non è stato risolto. Le cose sono peggiorate nell'ultima settimana e l'acqua è venuta completamente a mancare. La soluzione del problema però è arrivata successivamente grazie alla segnalazione di un cittadino che ha notato una perdita nei pressi del campo sportivo. Una volta individuato il guasto è stato riparato e la situazione è tornata alla normalità.